che sono domi con le ali perché se lo lanciano là lo scavizzavo la mia se cd ma ci cazzai tutti i cd è troppo lungo in due sul stesso punto e se scavizzavo ho lanciato questa mentre tu lanciavi quello e manca eccolo eccolo sì ma di là devi uscire cazzo 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 spiancicato sul letto ma no quello è capito se lo cattori così mica lo fai male c'è lui l'ho messo all'acqua vieni c'è ecco 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 no ecco 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 ACO Minchia, era allo stramo delle forze Adi che è il corvo, oh Batman, teniamo a Gianluca Pizziferri Non capito niente Se ne vuoi? No no eccolo Oh oh e fallo scendere Arrivederci Sta ancora aggrappato Penso di sì Sta ancora aggrappato Non lo so Sarà caduto giù